ciao a tutti ragazzi oggi voglio farvi vedere cosa mi sono sparato un gadget che secondo me è un must non solo per chi va in moto ma anche in macchina è un gadget rivoluzionario made in italy si tratta del braccialetto della wolf che praticamente rileva l'autovelo sfisso quello mobile semaforico e i tutor e leggevo che prossimamente anche i limiti di velocità che si possono impostare eccetera eccetera io l'ho già testato e devo dire che è una gran figata vi faccio l'unboxing anche se l'ho già aperto comunque nella confezione trovate questo cartoncino il braccialetto davvero molto molto bello io ho preso la versione quella da normale 149 euro con 10 euro in più c'è quella lì anche in carbonio queste pelle cuoio ben fatta leggerissima solo che il carbonio non c'era e ho preso questo ma onestamente va bene così quando lo comprate è già carico al cento per cento gran figata io infatti prima di acquistare questo braccialetto mi ero già scaricato l'applicazione in modo che subito fuori dal negozio ho avuto modo di testarlo io abito a milano e ho comprato questo prodotto da moto abbigliamento che tra l'altro ho avuto uno sconto del l'ho pagato 149 però siccome c'era un offerto ho avuto uno sconto di 30 euro per il prossimo acquisto quindi praticamente 120 euro soldi spesi veramente bene ragazzi per me è un must perché io con questo non ci vado solo in moto ma siccome io ci lavoro io faccio l'autista e quindi per me la patente e sacra non posso permettermi il lusso di di perdere la patente quindi che dire di questo prodotto davvero ben fatto è ultra leggero calza benissimo a questo velcro che di facile regolazione ed è anche un bello oggetto da vedere veramente bello calza benissimo sotto il guanto tranquillamente potete anche metterlo magari più in basso se avete dei quanti più lunghi ma io onestamente trovo che sia calza veramente bene con qualsiasi guanto e giacca quindi è davvero un grande prodotto l'applicazione semplicissima da scaricare e cosa figata è che questo sistema non necessita di nessun abbonamento internet ea tutti gli aggiornamenti futuri gratis addirittura leggevo su qualche forum che prossimamente verranno aggiornate altre altre cose qua c'è un un deblian esempio limiti di velocità l'ho già detto c'è anche questo è già attivo zone a rischio controlli quindi magari quei posti dove si possono imboscare i ghisa e quindi magari in quei punti specifici ti fa la vibrazione che magari dopo la curva di solito si mettono i vigili e eccetera 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 che dire secondo me è un prodotto ottimo vale i soldi spesi pensate che se prendete una multa superate anche di 10 km orari ecco il costo del braccialetto ma i punti patente però recuperarli non è semplice quindi secondo me è un gran bel prodotto ripeto per chi conosce in milano la varesina che la faccio tutti i giorni è piena di autovelo sfessi semaforici nella tangenziale esempio ovest di milano ma anche quella nord sud ci sono i rilevatori di velocità e devo dire che ho avuto modo di testarlo davvero bello io l'impostazione al massimo 450 metri prima mi vibra fino a 10 15 metri che arrivate davanti all'obiettivo quindi fino adesso ha funzionato non vi so ancora dire per quanto riguarda le postazioni mobili ma avrò sicuramente modo di testarlo perché lo userò tutti i giorni sia al lavoro che quando andrò in moto guarda che bello sembra anche un orologio detto questo io lo consiglio è un gran bel progetto made in italy ben fatto leggerissimo figo da vedere due anni di garanzia secondo me secondo me è un prodotto che ogni bike che dovrebbe avere io da quando l'ho preso l'ho preso ieri praticamente devo dire che quando ero in moto mi sentivo più sicuro ad aprire il gas o queste cose qua perché devo dire che perlomeno gli autovelo sfessi e quelli in tangenziale che rilevano la velocità li becca tutti e la gran figata nell'applicazione c'è un un'icona che se per sbaglio trovate un auto velo che non è segnalato basta cliccare lì sopra è in automatico manda la segnalazione al sito che farà le sue verifiche e andrà a aggiornare quella videocamera detto questo non so più cosa dire secondo me per 150 euro 140 dipende dove lo prendete è un prodotto da pollice in su vi saluto e vi metterò al corrente magari prossimamente se beccano una pattuglia dei vigili con la classica telecamera che si imboscano bastardi e vedremo se se lui rileva gli autovelo su mobili come promette detto questo vi saluto e alla prossima recensione ciao ragazzi